È un mondiale per cui cercheremo la situazione in tanta, ma cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi. L'emozione di correre in Italia, comunque in questo mondiale della ripartenza, così giovane, tra l'altro un anno per te, che alla fine ha dato tante novità per il passaggio di squadra e quant'altro. Sì, sicuramente in Italia vale doppio, no? Corre sulle strade di casa, perché si cercherà di allorarlo ancora di più. Abbiamo una squadra fortunata e cercheremo di dare il massimo. Bocca al lupo, ragazzi. Sì, grazie.